Ieri sera diversi giornali e siti internet hanno diffuso la notizia della morte di Giovanni Allevi, compositore e pianista di 54 anni. La falsa notizia si è diffusa così tanto che persino alcuni personaggi dello spettacolo come Carlo Conti e Daniela Martani hanno creduto alla buffa. La Daniela Martani ha ammesso su Twitter di essere rimasta scioccata quando ha letto la falsa notizia sulla morte di Allevi. Anche moltissimi fan sono rimasti atterriti dalla notizia. Allevi sempre in contatto stretto con il suo pubblico. Ha sempre aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute mantenendo sempre un sorriso sul volto e dimostrando un grande ottimismo. Qualche mese fa sui social il musicista ha con sincerità ammesso che le sue mani tremano a causa dei potenti farmaci che sta assumendo in questo periodo e che al momento non può suonare. Nonostante ciò ha affermato che una nuova musica invade la sua mente in modo impetuoso e che non perde nemmeno una nota.